1984, Romania. Una bambina si trova in casa insieme a suo fratello più grande, che è seduto davanti alla finestra in attesa che arrivi la mamma. C'è un gelido silenzio e dentro quelle mura è appena successo qualcosa di molto, molto triste. Pochi mesi dopo, questi due bambini verranno portati via da lì e la loro nuova casa sarebbe stata all'orfanotrofio. Questa è la triste storia di Maricica Irina Cornici. Una storia che non deve assolutamente essere dimenticata. Amici miei, buonasera. Sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose macabre, paranormali e il true crime, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi voglio raccontarvi una storia che, ragazzi, mi ha messo addosso tanta tristezza e al tempo stesso inquietudine. Piccola interruzione dall'Andrew del futuro perché devo dirvi che su Pampling, fino a questa domenica, quindi il 13, c'è finalmente lo sconto di Halloween. Il 20% su tutta la selezione di Halloween, magliette, altre cose, felpe, calze, con grafiche stupende come questa che sto indossando. Oppure questa, o questa ancora e comunque anche tutte le altre che trovate sulla sezione dedicata sul sito. Io ne prendo qualcuna in questi giorni, ve la faccio vedere poi su Instagram. Insomma, andate a dare un'occhiata, io vi lascio il link in descrizione e vi ricordo che con il codice Andrew potete anche ricevere delle calze a vostra scelta totalmente in omaggio. Fatemi sapere se prenderete qualcosa perché quest'anno ho visto proprio delle grafiche strafighe e non vedo l'ora di prenderle anche io. Ora torna il vecchio Andrew. A est della Romania c'è una zona chiamata Vaslui, una delle zone più povere del paese. Ed è lì che si trova un piccolo villaggio chiamato Iana. In una sorta di baracca di questo solitario e sperduto borgo vive la piccola Irina. È il 1982, la Romania fa ancora parte dell'Unione Sovietica e si trova in uno dei suoi periodi più bui. Al potere c'è Nicolae Ceausescu, di cui sicuramente ho sbagliato di pronunciare il nome e che sarà l'ultimo presidente della Repubblica Socialista di Romania. Tra l'altro quest'uomo verrà condannato nel 1989 per crimini contro lo Stato e genocidio. Ma questa è un'altra storia. Maricica Irina Cornici, la protagonista della nostra di storia, nasce proprio in quell'anno, nell'82. Per comodità noi la chiameremo semplicemente Irina. I suoi genitori sono Yon Cornici e Elena Antoji. È anche un fratello più grande di nome Vasile. La famiglia di Irina, come penso abbiate già capito, è estremamente povera. Così povera che spesso non riesce nemmeno a mettere del cibo in tavola. Per questo motivo un giorno il padre, Yon, si ritrova costretto a rubare delle galline per sfamare la famiglia. Ma durante il furto viene beccato e condannato a ben quattro anni di carcere. Non riuscendo però a sopportare il dolore di essere imprigionato per quattro anni, un giorno decide di togliersi la vita, impiccandosi ad un asse del tetto, proprio davanti agli occhi della piccola Irina, che durante i fatti ha solo due anni. Una scena che probabilmente non si sarebbe ricordata, ma che inconsciamente l'avrebbe segnata per tutta la vita. In quel momento in casa c'erano solo lei e suo fratello Vasile. Dopo la morte del padre i due bambini rimangono a vivere solo con la madre Elena, con la quale però la situazione continua solo a peggiorare. La donna ha grossi problemi con l'alcol ed è anche violenta con i figli. Ed è proprio per questo motivo che Irina e Vasile vengono mandati in un orfanotrofio. Un orfanotrofio chiamato la casa del bambino, che si trovava a Barlad, una zona sempre a destra del paese. I due piccoli, dopo essere rimasti praticamente orfani, crescono in un contesto completamente degradato. A quei tempi gli orfanotrofi non erano un luogo sano e sicuro in cui crescere. Spesso erano strutture sporche, fredde, strutture che non avevano abbastanza soldi neanche per comprare il cibo che sarebbe stato necessario a sfamare tutti i bambini. Pare anche che le violenze e gli abusi fossero all'ordine del giorno, sia da parte del personale sia da parte dei bambini più grandi, che molto spesso maltrattavano e addirittura picchiavano i bambini più piccoli. In particolare erano le bambine femmine a subire più abusi di tutti gli altri. Purtroppo infatti anche la stessa Irina subirà diversi abusi nel corso degli anni. Oltre a questo pare che il personale della struttura rubasse il cibo destinato ai bambini, cibo che molto spesso veniva inviato grazie a degli aiuti esterni. Questa situazione di degrado ha addirittura provocato la morte di alcuni bambini che ovviamente perdevano la vita per denutrizione. Una situazione ragazzi davvero tragica, ma che purtroppo era all'ordine del giorno non solo in quella struttura e non solo in Romania, anzi. Come vi accennavo prima comunque, nel 1989 il dittatore Nicolae viene condannato a morte insieme a sua moglie Elena e la Repubblica Socialista cade insieme a lui, lasciando la popolazione rumena a terra, costretta ad aversi rialzare praticamente da sola e senza riferimenti ideologici. La Romania postcomunista è una nazione devastata dalla povertà e dall'ignoranza, ma c'è qualcosa che subito dopo la fine della dittatura prende piede in tutto il paese, la religione. Di questo però parleremo poco più avanti, perché sarà il nucleo centrale di tutta questa vicenda. Quando Vasile, il fratello di Irina, compie 16 anni, viene finalmente adottato da una famiglia che aveva bisogno, diciamo, di manodopera nei loro campi. E così Irina rimane da sola. In orfanotrofio però stringe una forte amicizia con una ragazza di nome Paraschiva Anghella. Paraschiva, non so come si pronunci. Anche lei ovviamente è una bambina rimasta orfana, ormai una ragazza. Crescendo da bambina chiusa e introversa che era, pian piano Irina comincia a schiudersi e infatti tutti concordano nel descriverla come una persona molto forte e stabile sia sul piano fisico che psicologico. Una persona mai stanca, mai debole o malata. Irina ad un certo punto decide anche di imparare il karate per essere in grado comunque di difendersi da sola e in lei nasce anche una grande passione per il calcio. Ma anche se lo sport avrebbe dovuto rappresentare un ottimo metodo per incanalare e sfogare le emozioni, dentro Irina nasce o scatta qualcosa. La ragazza infatti comincia ad avere atteggiamenti violenti e purtroppo questa rabbia viene sfogata proprio sulla sua amica Paraschiva. Per questo il loro rapporto si trasforma in qualcosa di malsano e tossico. Irina inoltre comincia a sviluppare dei sentimenti per l'amica ma inizia anche a riprimerli. Penso fosse anche questo il motivo per cui Irina era aggressiva con lei. Devo puntualizzare e ricordare che in quegli anni l'omosessualità era totalmente illegale in Romania e punita con il carcere. Lì era anche un argomento tabù, si tendeva a non parlarne e di solito la sessualità proprio in generale veniva completamente repressa. Quindi Irina comincia a combattere ogni giorno contro se stessa reprimendo i propri sentimenti e continuando quindi a sfogare la sua rabbia sugli altri e in particolare sulla ragazza per cui provava un'attrazione. Nonostante il contesto difficile in cui era cresciuta Irina riesce comunque a terminare il liceo agricolo di Barlad e a 19 anni prende il diploma. Viene poi adottata anche lei dalla stessa famiglia di suo fratello. I coniugi accolgono la ragazza a braccia aperte e quella famiglia diventa un vero e proprio punto di riferimento per Irina, qualcosa che le era sempre mancato. La ragazza comincia ad aiutare la famiglia lavorando nei campi, pure lei, e poi più avanti ottiene addirittura l'autorizzazione per trasferirsi in Germania e lavorare come babysitter. In questo modo avrebbe fatto una bellissima esperienza all'estero e avrebbe anche messo qualche soldo da parte. La sua famiglia adottiva quindi non le bloccava per niente la strada, anzi le ha aperto tantissime possibilità. Irina perciò in Germania comincia a lavorare per una famiglia di medici di St Oswald nella bassa Baviera. Si deve occupare praticamente dei loro due bambini in età prescolare. Comincia quindi a risparmiare e precludersi praticamente qualsiasi cosa pur di accumulare più soldi possibili e alla fine dell'esperienza riesce a mettere da parte ben 4.000 euro. Il suo obiettivo era di riuscire ad andare a vivere da sola in un appartamento tutto suo per poi magari chissà in futuro comprarne uno. Durante il suo soggiorno in Germania continua però a scambiarsi delle lettere con Paraschiva, lettere nelle quali scopre che lei stava pensando di prendere i voti e diventare suora nel monastero della Santissima Trinità a Tanaku. Nell'aprile del 2009 la sua esperienza in Germania giunge al termine, così la ragazza fa ritorno in Romania dai suoi genitori adottivi. Una volta affidato loro tutto ciò che aveva guadagnato durante il suo lavoro in Germania, in modo che tenessero comunque i suoi soldi da parte, perché si fidava ovviamente di loro, decide di andare a trovare la sua amica Paraschiva per comunicarle il suo piano, ovvero trasferirsi insieme a lei grazie a tutti i soldi guadagnati in Germania. La reazione dell'amica però non è quella che Irina si aspettava, perché lei le dice che ora il suo obiettivo era diventare suora e rimanere a vivere lì al monastero perché finalmente sentiva di far parte di una comunità. Il sentirsi parte di un gruppo rappresentava qualcosa di estremamente importante perché tutti quelli che uscivano dagli orfanotrofi non si erano mai sentiti parte di un qualcosa, di una famiglia, mentre il monastero vigeva un senso di appartenenza molto forte. Ma qual è esattamente il rapporto della Romania con la religione? E perché non ne abbiamo parlato fino ad ora? Provo a spiegarvelo. Quando il dittatore Ceau Sunesco, quello là, è salito al potere, nel paese vigeva già una vera e propria persecuzione antireligiosa. La Romania comunista, fidandosi alla dottrina marxista, si era apposta all'obiettivo di creare uno stato ateo. In quel periodo oltre 5.000 sacerdoti ortodossi sono stati arrestati durante la repressione. 400 sacerdoti greco-cattolici sono stati perseguitati e uccisi. E 2.000 chiese greco-cattoliche sono state confiscate. Il regime per anni ha tentato di indottrinare la popolazione, specialmente i giovani, con l'ateismo. E questa repressione ha causato ovviamente moltissime rivolte e purtroppo migliaia di morti. Perché ormai sappiamo che la repressione in ogni sua forma non porta mai a nulla di buono. Durante la dittatura in tutto il paese si contavano soltanto 200 monasteri, mentre con la caduta del dittatore il numero dei monasteri è salito a 600, quindi il triplo. E i 2.800 monaci sono invece quadruplicati. Dopo 40 anni di ateismo, di stato, si assiste ad un vero e proprio risveglio spirituale in Romania. E c'è una persona che sfrutta questo risveglio spirituale al meglio. La persona che sarà il secondo protagonista di questa vicenda. Petru Korogheanu, anche chiamato padre Daniel. Padre Daniel nasce nel 1975 e non sappiamo quasi nulla della sua vita, ma sappiamo che prima di diventare prete ha dovuto affrontare diversi fallimenti. A 19 anni prova a diventare un calciatore a Vaslui e poi si iscrive all'università di giurisprudenza a Bucarest, ma fallisce in entrambe le cose. Dopo aver capito che lo sport e il diritto non erano la sua strada, e dopo aver visto che la religione era in fortissima crescita nel paese, decide di buttarsi proprio su questo, sulla religione, e comincia a studiare teologia. Padre Daniel quindi, a soli 24 anni, arriva al monastero della Santissima Trinità e diventa prete a tutti gli effetti, nonostante non avesse ancora una vera e propria formazione e non fosse ancora qualificato per esercitare queste funzioni. Non aveva finito gli studi, insomma. Dall'aspetto, tuttavia, sembra un uomo molto saggio e autoritario, e per questo motivo si guadagna subito la fiducia di tutte le suore del convento. Diciamo diventa una specie di icona, ma padre Daniel in realtà è un personaggio parecchio controverso, e questo per via delle sue credenze un po' troppo mistiche, diciamo, infatti l'uomo rifiuta totalmente la scienza, la psicologia e anche qualsiasi altro tipo di religione che non fosse la sua, e per questo va molto in disaccordo con i membri più progressisti della chiesa ortodossa. Non viene assolutamente visto di buon occhio dagli altri preti, che lo ritengono troppo conservatore e dalla mentalità medievale, e le persone intorno a lui cominciano a temerlo. Per questo padre Daniel comincia ad accogliere nel suo monastero tantissime suore da tutto il paese, decine e decine di donne senza nessun obiettivo e senza una strada da seguire, perché ovviamente sapeva che in cambio di un tetto e di un gruppo a cui appartenere, sarebbero state completamente devote a lui. E così è stato, nel senso che le suore del monastero vedevano padre Daniel come una vera e propria figura di riferimento, lo veneravano come se fosse un santo, e quindi possiamo dire che è così che ha inizio il suo indottrinamento. Intorno al monastero iniziano anche a girare molte voci, voci che ovviamente arrivavano fino ai villaggi circostanti, secondo cui dopo essere entrati in convento si poteva guarire da qualsiasi male e si poteva finalmente trovare la luce. Questo ovviamente era pane per i denti di padre Daniel, perché il suo fanatismo si appoggiava tantissimo a queste storie. L'uomo infatti, tra le altre cose, si avvicina anche moltissimo al mondo degli esorcismi. Il motivo per cui il fenomeno degli esorcismi ha preso rapidamente una piega diciamo malsana è che nelle zone più povere del paese, dove l'ignoranza e la poca consapevolezza erano gli elementi predominanti, il misticismo era la via più semplice per spiegare la propria povertà, magari con la presenza del diavolo o di demoni. Tuttavia, se prima gli esorcismi consistevano in pratiche relativamente semplici, in cui la persona esorcizzata doveva ricevere alcune preghiere dal prete, ora i rituali di esorcismo stavano diventando molto più elaborati. Padre Daniel comincia a leggere moltissimi libri sugli esorcismi e in particolare comincia ad appoggiarsi ad un manuale intitolato Il Potere della Santa Unzione, i cui temi principali sono la stregoneria e l'adorazione del diavolo che stavano diventando dei fenomeni così diffusi da aumentare a dismisura il rischio di possessioni demoniache. Secondo il libro e secondo quindi anche padre Daniel, solo i santi potevano scacciare il male dalle persone indemoniate e per essere santi bisognava dimostrare di essere devoti al 100% alla fede, alla preghiera e al digiuno. Padre Daniel così comincia a pregare ininterrottamente e a digiunare anche per cinque giorni di fila. Se gli altri preti pregavano un'ora, allora lui ne pregava tre. La situazione gli stava decisamente sfuggendo di mano. Quando Irina arriva al monastero, l'idea di farsi suora non la sfiora minimamente. Eppure dopo il suo incontro con Paraschiva, qualcosa in lei cambia. Il 9 aprile 2005, dopo aver trascorso alcuni giorni nel monastero insieme a suo fratello Vasile, Irina comincia a sentirsi male. A quanto pare la ragazza in quel momento ha un esariamento nervoso. Comincia a colpirsi la testa da sola, a urlare frasi sconnesse, a dire di sentire delle voci e a pensare al suicidio. Padre Daniel e le suore del monastero rimangono sconvolti da questa scena e si riuniscono tutti insieme per pregare intorno a Irina e per scacciare il male che le stava facendo questo. Purtroppo però nemmeno con le preghiere Irina sembrava riprendersi, ovviamente. E le crisi stavano peggiorando. Quindi si prende la decisione di portarla in ospedale. Decisione che sinceramente mi ha meravigliato da parte sua. Fatto sta che al suo arrivo i medici portano Irina nel reparto di terapia intensiva e dopo alcune analisi riescono a fornire una diagnosi. Schizofrenia. Irina quel giorno aveva avuto il suo primo episodio delirante ed è questo il motivo per cui diceva di sentire delle voci. Abbiamo tutti un'idea di che cosa sia la schizofrenia ma cerco di spiegarvelo brevemente comunque. La schizofrenia è una psicosi cronica caratterizzata da sintomi quali allucinazioni visive, uditive, deliri paranoidi o pensieri disorganizzati. Le cause della malattia possono essere diverse. Solitamente c'è una combinazione di fattori genetici e ambientali. E abbiamo visto che Irina è cresciuta in un ambiente sicuramente non idoneo ad una bambina. È cresciuta facendo la fame, ha assistito al suicidio di suo padre, sua madre non era presente ed era violenta e poi è anche arrivato l'orfanotrofio dove è stata trascurata, maltrattata e abusata. Oltre a questo anche il padre di Irina, Yon, soffriva di disturbi mentali e aveva tendenze suicide. Quindi anche il fattore genetico sicuramente ha avuto un'impronta rilevante nell'insorgenza della malattia in Irina. Solitamente poi l'avvento dei sintomi avviene intorno all'età adulta quindi tutta la diagnosi coincideva perfettamente con la cartella clinica di Irina. Comunque nemmeno dopo la diagnosi in ospedale Irina sembra migliorare. Continua a dire frasi totalmente sconnesse tra di loro e alterna momenti di rabbia a momenti invece di euforia totale. Tutti questi comportamenti ovviamente non faranno che convincere ancora di più tutta la comunità, già molto superstiziosa, che Irina fosse posseduta dal demonio. Irina rimarrà in ospedale per ben due settimane. Due settimane in cui né suo fratello Vasile né la sua amica Paraschiva le hanno fatto visita. Soltanto una delle suore del monastero è andata a trovarla per avere sue notizie, anche se sarebbe stato meglio se se ne stesse al suo posto secondo me e ora vi spiego il perché. Quando questa suora che in realtà era la madre superiora arriva in ospedale si reca subito nel reparto di psichiatria per parlare con alcuni medici. E lì un'infermiera si confessa con lei e le dice che Irina era sicuramente impossessata dal diavolo e che non c'era nessuna diagnosi di schizofrenia. Ora voglio specificare che questo non è successo un secolo fa. Siamo nel 2005, eppure vent'anni fa, a pochi passi da noi, succedeva questo. Sicuramente in una città grande come Bucarest, dove l'informazione e la cultura sovrastavano il fanatismo, questa cosa non sarebbe successa secondo me. Ma più ci si adentrava in zone rurali dove l'analfabetismo e l'ignoranza erano l'ordine del giorno, più si tendeva a spiegare questi fenomeni con episodi mistici. Le malattie mentali lì erano ancora un tabù e si tendeva a non parlarne o a giustificare il tutto con possessioni demoniache, con i demoni, il diavolo. Era più facile così, in effetti. Ad ogni modo penso che l'atteggiamento di questa infermiera sia stato poco professionale, poco etico, perché se lavori in un ospedale devi seguire un codice deontologico preciso e non puoi giustificare una diagnosi di schizofrenia con una possessione demoniaca. Ok? Ma vabbè, proseguiamo. Il 24 aprile Irina viene dimessa dall'ospedale e torna al monastero. La dimettono con una schizofrenia in fase iniziale, quello che hanno detto loro, e le prescrivono un farmaco chiamato Ziprex, indicato appunto per la schizofrenia. L'intero ciclo di cura costava circa 200 euro. In una fonte è riportato che alcuni monaci del monastero sono partiti per Cuptuare, dove risiedeva la famiglia adottiva di Vasile e dove Irina aveva lasciato i suoi risparmi. Luogo distante almeno un giorno di automobile da Tanaku. Ad ogni modo prelevano parte dei soldi e ritornano al monastero, secondo questa fonte. In altre fonti però non è scritto esattamente questo, ma ci arriviamo tra poco. Per oltre un mese in ogni caso Irina sta meglio. Le sorella aiutano a concentrarsi sul suo benessere spirituale e a pregare, a digiunare e soprattutto a confessarsi. La confessione è importantissima perché è il momento in cui si raccontano tutti i peccati e quindi si libera l'anima dal male, tra virgolette. Irina alla fine finisce per prendere i voti. Infatti diventa anche lei a tutti gli effetti una suora, ma qui ho letto un po' di fonti discordanti. In alcune dicono che in realtà lei non aveva intenzione di diventare suora e la sua volontà era quella di tornare dalla sua famiglia a Cuptuare, in modo da continuare a lavorare e risparmiare per portare a termine il suo progetto di andare a vivere da sola e prima o poi comprare una casa. Mentre in altre si dice che il suo obiettivo al momento era di rimanere in monastero. Insomma quello che è sicuro è che Irina aveva paura che qualcuno le rubasse i suoi risparmi, tutti i soldi che aveva guadagnato lavorando duramente in Germania. Ma di chi aveva paura esattamente? Irina come sapete si fidava ciecamente dei suoi genitori adottivi, ma non si fidava affatto di padre Daniel. A quanto pare Irina in quel periodo aveva il terrore che lui insieme ad altri monaci del monastero andasse dalla sua famiglia e con qualche scusa prelevasse tutti i soldi per utilizzarli per il monastero. Oltre a questo in alcune fonti viene detto che Irina in quel periodo si era rimessa completamente e stava bene, mentre in altre c'è scritto che la sua salute mentale stava lentamente declinando giorno dopo giorno. E il motivo era anche appunto la paura che qualcuno le rubasse i soldi. In particolare c'erano alcuni episodi in cui Irina si metteva a ridere in maniera isterica senza un'apparente ragione, magari durante le normali funzioni religiose, durante una messa, e immaginate quanto tutto ciò spaventasse a morte sia le suore che padre Daniel, che erano sempre più convinti ovviamente che la ragazza fosse indemoniata. Prima vi dicevo che in una fonte è riportato che dopo la dimissione di Irina dall'ospedale alcuni monaci si sono recati dalla sua famiglia adottiva per recuperare il denaro per il farmaco. Tuttavia in altre fonti è scritto che un giorno sia stata proprio Irina a far visita alla sua famiglia adottiva e questo perché la sua intenzione era recuperare appunto tutto il denaro che aveva messo da parte. Non mi è chiaro il perché, dato che il suo piano di trasferirsi ormai era praticamente saltato, ma come abbiamo detto Irina viveva con il costante terrore, pensiero che qualcuno le rubasse il denaro e non aveva tutti i torti in realtà perché al suo arrivo in casa scopre che di quei 4.000 euro che aveva lasciato non era rimasto praticamente più nulla. E da qui nascono altre teorie discordanti. Alcuni pensano che siano stati i monaci quel giorno ad aver preso tutto il denaro anziché solo i 200 euro necessari per la cura e questo con lo scopo appunto di donare tutto al monastero, mentre altre teorie affermano che sia stata proprio la famiglia ad aver speso tutti i soldi. In ogni caso Irina alla scoperta di tutto ciò si sente malissimo. A quanto pare è stato proprio questo che ha definitivamente rotto qualcosa nella sua già fragilissima psiche. A quel punto la donna decide di recuperare tutte le sue cose da camera sua e andarsene via definitivamente da quella casa e in quel momento realizza che in camera sua c'era un'altra persona. I suoi genitori adottivi infatti avevano adottato un'altra ragazza mentre lei era via e questo la fa sentire ancora più male. Si sente adesso tradita e rimpiazzata in pochissimo tempo. Queste scoperte tutte insieme le provocano un dolore immenso e purtroppo questa sarà l'ultima volta che avrebbe visto i suoi genitori adottivi. Al suo ritorno nel monastero Irina comincia ad avere sempre più esaurimenti nervosi, ha atteggiamenti aggressivi e violenti verso se stessa e verso gli altri. Ci sono momenti in cui sembra sia bene e altri momenti in cui invece dà completamente di matto e urla parole aggressive verso le altre persone del monastero. Ci sono giorni in cui si rifiuta di mangiare, di bere e anche di dormire. Padre Daniel vedendo l'evidente peggioramento di Irina comincia a rifiutarsi del tutto di fornirle le cure mediche o di portarla in ospedale e afferma che ciò di cui aveva bisogno Irina era solo ed esclusivamente un esorcismo. Smettere di curarla con la medicina tradizionale, noi sappiamo, non avrebbe fatto altro che farla peggiorare a dismisura, aumentare i sintomi, ma nella testa di padre Daniel questa era la cosa più giusta da fare. Una sua frase diventata poi celebre, infatti, è questa. Non puoi scacciare via il demonio con delle pillole. A quanto pare questi sono stati i giorni decisivi per dare il via all'esorcismo, perché padre Daniel appunto si rifiuta di lasciare andare Irina e di fornirle le cure mediche di cui aveva bisogno. Nei giorni seguenti l'esorcismo è inizio. Ma ragazzi parliamo di un esorcismo piuttosto strano. Non pensate a quelli che avete visto nei film, perché questo è stato più terrificante di qualsiasi horror sia mai stato fatto. Irina infatti viene torturata per tre giorni di seguito, perché si trattava effettivamente di una tortura vera e propria. La donna viene legata a mani e piedi e le viene messo un asciugamano in bocca per evitare che urlasse oscenità durante la pratica religiosa. Padre Daniel insieme ad altre quattro suore, compresa la madre superiore, pregano incessantemente intorno a Irina e ogni tortura è preceduta da una richiesta di padre Daniel al fratello Vasile, che puntualmente autorizza ogni volta. Il prete fa poi incrociare due barelle per dare loro la forma di una croce nella quale Irina viene legata con delle catene, per dare una sorta di idea della crocifissione. Viene poi portata in chiesa e tenuta lì per tre giorni interi consecutivi, mentre le suore a turno le bagnano la fronte e i polsi con l'acqua santa. A Irina viene anche negato il cibo e l'acqua per un totale di 72 ore. L'unico momento in cui può dissetarsi fra tantissime virgolette è quando le suore le versano dell'acqua santa sulle labbra. Per tre lunghi giorni Irina è costretta a rimanere in quella posizione, senza mangiare, senza bere e con tutti i sintomi della sua patologia. Il 15 giugno del 2005, dopo tre giorni legata a quella croce improvvisata, le suore decidono di slegarla per vedere cosa sarebbe successo. E lei in quel momento in effetti rimane calma, non dice più frasi oscene e quando la madre superiore le offre del pane e del tè, Irina lo accetta subito. Ma poco dopo aver mangiato si addormenta in un sonno profondo. Sonno dal quale purtroppo non si sarebbe mai più risvegliata. La madre superiore nota subito che i respiri di Irina non erano regolari e decide quindi di controllarle il posso per constatare che il battito era estremamente debole. Le suore a quel punto cominciano a farsi prendere dal panico e prendono la decisione, finalmente, di chiamare un'ambulanza che arriva intorno a mezzogiorno. Ma all'arrivo dei paramedici il posso di Irina era inesistente. Le vengono subito fatte delle iniezioni di adrenalina nella speranza che il suo cuore ricominciasse a battere e viene trasportata ad urgenza in ospedale. Ma al suo arrivo è già troppo tardi. Irina era già morta. Morta a soli 23 anni, dopo tre giorni di esorcismo. Il medico che annuncia la sua morte dichiara che Irina, al suo arrivo in ospedale, in realtà era già morta da parecchie ore. Afferma inoltre che la causa della morte è stata sicuramente la disidratazione, lo sfinimento e lo shock ipovolemico, che in sostanza significa che il sangue non arrivava correttamente al cervello, il che ha provocato lo shock, sopraggiunto proprio a causa di una diminuzione improvvisa della massa sanguigna circolante. Questo tipo di shock solitamente sopraggiunge dopo pesanti emorragie o grosse perdite di liquidi, ma per Irina potrebbe essere dato dal fatto di essere rimasta legata in una posizione molto scomoda, con le catene che probabilmente non permettevano al sangue di confluire normalmente e circolare correttamente. E aggiungiamo anche il fatto di non aver bevuto e mangiato per ben 72 ore. Insomma era prevedibile? Che sarebbe successo? Ma hanno comunque continuato a tenerla così, legata, denutrita, disidratata. E secondo le loro parole l'hanno fatto anche perché la stessa Irina nei momenti di lucidità chiedeva loro di tenerla legata e di aiutarla. E certo, anche lei era convinta di essere posseduta, l'avevano convinta di questo. E in effetti vedeva pure cose, sentiva voci terrificanti, quando in realtà era la sua patologia a provocare tutto. Loro però hanno ascoltato le sue richieste di aiuto che comprendevano il rimanere legata e denutrita nonostante sapessero della sua condizione mentale. Pensavano ovviamente che non fosse davvero schizofrenica ma che fosse il diavolo. E questa non è assolutamente una giustificazione. I medici hanno notato i grossi segni lasciati sia sui polsi che sulle caveglie di Irina e questo non ha fatto altro che aumentare le numerose domande sulla sua morte già parecchio sospetta. Per questo motivo l'ospedale decide di contattare la polizia e di muovere delle accuse contro padre Daniel e le suore del monastero. La notizia della morte di Irina fa rapidamente il giro del paese. E questa notizia viene accolta in maniera molto diversa in base alle zone. Se a Bucharest e nelle città più grandi la sua storia è stata accolta con scandalo, nelle zone più povere e meno civilizzate si ha la sensazione che l'incredulità e il dispiacere rubino il posto allo sdegno. Nel complesso nel paese nasce una nuova consapevolezza. La consapevolezza di dover rivalutare tutta la situazione religiosa che come abbiamo detto era cresciuta in maniera esponenziale negli anni subito dopo alla caduta del dittatore. Ma soprattutto la gente si è cominciata a preoccupare per il fatto che molti monasteri fossero nelle mani di sacerdoti con un livello di istruzione molto basso come ad esempio il monastero della Santissima Trinità con padre Daniel. La popolazione rumena tuttavia alla fine della dittatura aveva smesso di riporre la propria fiducia nello stato e le persone si recavano in chiesa per qualsiasi cosa anche solo per ottenere un sostegno spirituale, del cibo o un alloggio. Nelle aree più povere come Tanaku le persone avevano riposto la loro totale fiducia nelle istituzioni religiose ma dopo lo scandalo della storia di Irina questa fiducia ovviamente viene meno e la gente comincia a volere delle risposte. Il 20 giugno 2005 viene tenuto il funerale di Irina a Barlad, luogo in cui era cresciuta nell'orfanotrofio. Due giorni dopo il 22 giugno padre Daniel insieme alle quattro suore che avevano partecipato all'esorcismo compresa la madre superiore vengono arrestati con l'accusa di sequestro di persona e omicidio colposo e vengono interrogati. Come abbiamo detto a questo punto sono parecchie le persone convinte che padre Daniel abbia agito per volontà di Dio e che non debba quindi essere arrestato per questo ma la chiesa ortodossa si fa avanti anche se in maniera lenta diciamo e insidiosa e definisce abominevole questo diritto insistendo sul fatto che nei monasteri ci fosse bisogno di più disciplina e soprattutto di formare maggiormente i preti. Ovviamente padre Daniel viene scomunicato così come le altre tre suore e la madre superiore. Oltre a questo quando viene divulgata la notizia secondo cui padre Daniel non aveva nemmeno mai terminato gli studi in teologia l'indignazione nel paese aumenta e si insiste ancora di più sul fatto che i preti debbano avere un certo livello di istruzione prima di entrare a far parte di un monastero. Ad ogni modo nel 2007 tutti e cinque vengono processati in un tribunale di Vaslui e tutti e cinque si dichiarano non colpevoli per la morte di Irina attribuendo invece la colpa ai paramedici che quel giorno le avevano fatto le iniezioni di adrenalina provocandole così l'arresto cardiaco secondo loro. Padre Daniel o dovrei chiamarlo solo Daniel a questo punto si difende ammettendo di aver legato Irina per giorni ma di averlo fatto per aiutarla e per evitare che si facesse del male poi sposta anche la colpa sulle altre suore e sulla madre superiora che sono state i suoi complici per tutto il tempo. Fatto sta che il 19 febbraio 2007 il tribunale di Vaslui condanna Daniel a soli 14 anni di reclusione la madre superiora ha otto anni mentre le altre tre suore vengono condannate a cinque anni di prigione. Condanne ragazzi che mi hanno lasciato parecchio amareggiato e non è tutto perché nel dicembre del 2011 dopo soli sei anni di carcere padre Daniel viene rilasciato dopo aver fatto appello ed essere riuscito a dimezzare la sua pena. Anche la madre superiore alla fine ha scontato solo sei anni di carcere. Oggi sono tutti liberi. Numerose persone credono ancora adesso a Daniel e al fatto che Irina fosse posseduta dal demonio e trovo sia straziante il fatto che anche il suo stesso fratello Vasile appoggi ancora adesso al 100% Daniel per quello che ha fatto alla sua stessa sorella. Questa è una storia molto triste dall'inizio alla fine. Irina è nata e cresciuta nella povertà più assoluta senza genitori né punti di riferimento e senza nessun aiuto per la sua malattia mentale. Penso davvero che se si fosse trovata a qualche chilometro di distanza anche solo in una città come Bucarest sicuramente le cose sarebbero andate in maniera molto diversa. Il suo caso invece è stato lasciato nelle mani di un uomo senza nessuna qualifica né istruzione accecato dal proprio ego. Un uomo secondo cui era lui il prescelto da Dio per poter scacciare il male dalle altre persone. L'omicidio di Irina ha svelato all'Europa una Romania sconosciuta, poverissima, spettrale e pensare che tutto questo succedeva nemmeno vent'anni fa e vicinissimo a noi fa davvero venire i brividi. Oggi Daniel è un uomo libero come vi ho detto e per questo io credo che non sia stata fatta giustizia per niente. Però fatemi sapere ovviamente cosa pensate anche voi perché specialmente su questo tema mi interessa moltissimo anche il vostro punto di vista. Queste comunque erano tutte le informazioni che abbiamo trovato sulla triste storia di Irina. Come curiosità finale vi posso dire che questa vicenda ha ispirato due film. Un film rumeno uscito nel 2012 chiamato Beyond the Hills e Crucifixion uscito nel 2017 e realizzato dai produttori di The Conjuring e Annabelle. Quest'ultimo ha anche riscosso un discreto successo. È comunque importante conoscere la vera vicenda di Irina sperando che ovviamente nel 2024 e da qui in poi queste cose non capitino più e che ci sia maggiore consapevolezza sulle malattie mentali soprattutto in luoghi in cui l'istruzione e la conoscenza sono sempre sovrastate dalla religione e dal fanatismo. Detto questo amici io spero che in qualche modo anche oggi vi sia piaciuto passare del tempo con me. Se è stato così ricordate di mettere un mi piace a questo video o un mi piace se invece non vi è piaciuto che vedevo di. E ora ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto torneremo in Francia con un caso che ha sconvolto i francesi e che ancora oggi rimane uno dei casi più strani ed enigmatici del paese. Spero di avervi incuriositi e spero quindi che rimarrete nei paraggi iscrivendovi al canale. E adesso parlo con te. Sì proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricordati che youtube non si sbaglia mai. E qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vedo appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!